Sono Matilde Battistini, segretaria generale di Associazione Mercurio. Dopo un'esperienza decennale in campo editoriale e come autrice e giornalista pubblicista, ho voluto mettere a frutto l'esperienza maturata in grandi gruppi editoriali nel sociale, fondando Associazione Mercurio e sviluppando per l'Italia, insieme a Maria Stella Virts, il progetto Pink Sea the Whale.